Osserva il penny magico. Sembra un normalissimo penny, ma faccio la mia agitatina magica e... Ora è nella mia mano destra, ma il trucco magico non finisce qui. Faccio un'altra agitatina e... E' nel taschino del panciotto. Ma il trucco magico non finisce qui. Faccio un'altra agitatina e... Di nuovo nella mano sinistra, dove stava. Questa non è magia. Ma di che parli? Certo che è magia. Hai sempre tenuto il penny in quella mano. Grazie.